Ricorda che siete maschi bianchi, cis, etero, nati negli anni Ottanta, quindi vietatissimo parlare di sentimenti, emozioni positive, fragilità, dubbi, ortaggi, marmellati, animali domestici, legumi, con deroga solo se connessi a flatulenze, sentiti libero, ombrelli, forbici, forbicine, forbici da seta. Del lavoro puoi, ma cos'è che è come se parli con un cane del deserto, che punti di incontro ce panno sta? Quindi come spunti di conversazione avanzano, gossip e risse, che poi ti dice pure bene, perché caso vuole che sono le uniche due cose della vita per le quali secco ritiene che vale la pena uscire di casa e discutere con altri esseri umani.